buongiorno bentrovati nuova settimana che comincia nuova settimana che comincia con legal community in questo video editoriale vorrei parlarvi di società organizzazione dello studio legale in forma societaria molti mi chiedono davvero conviene serve utile perché alcuni lo fanno altri non lo fanno perché la maggioranza ancora oggi non lo fa e così via beh qui come dire ogni caso in teoria fa storia a sé perché ovviamente bisogna valutare l'impatto fiscale che una trasformazione di questo genere implica sulla organizzazione legale che va a decidere di perseguire questa strada cambia il discorso se a decidere di costituirsi in forma societaria è una realtà che si costituisce ex novo o se a farlo è uno studio che come dire decide di evolvere la propria struttura e organizzazione sociale in questo senso c'è un dato di fondo però che secondo me merita una piccola riflessione e che riguarda l'impatto psicologico che la trasformazione dell'associazione professionale in società implica perché da questo punto di vista non possiamo negare il fatto che ci sia nel processo che conduce dall'esercizio della professione in forma associata quindi di associazione professionale a quello in forma societaria c'è proprio da percorrere un vero e proprio salto di maturazione in termini gestionali di governance di organizzazione per la struttura ecco questo salto secondo me è un salto culturalmente interessante non dico che questo debba essere considerato un passo obbligato per molti la trasformazione in società francamente non ha grandissime utilità forse ne avrebbe avute per chi come dire in questo stato di crisi di mercato avesse avuto bisogno di accedere a quegli aiuti che lo stato ha messo a disposizione per le società e non per le associazioni di professionisti ma tolto questo tolta la contingenza e in una chiave più generale probabilmente non è la strada necessaria per tutti non è la strada percorrere per tutti però è una strada che obbliga a ragionare su come è organizzato lo studio sulle gerarchie interne sui ruoli sulla governance sulla managerializzazione di alcune funzioni e su come gestire il passaggio generazionale e il futuro della struttura ecco questi elementi secondo me sono invece da tenere in considerazione nel momento in cui si decide di dar vita ex nome a uno studio legale e si prende in considerazione l'opportunità di farlo in forma societaria basti pensare già soltanto alla disciplina contabile che questa scelta impone no dovendo essere da quel momento in poi obbligati a redigere pubblicare soprattutto un bilancio ogni anno tener conto dei flussi di cassa, delle spese, capire che ciò che spende lo studio o ciò che entra nelle casse dello studio non è in automatico e per necessità ciò che spende, ciò che entra nelle tasche dei suoi soci o dei suoi fondatori insomma tutta una serie di concetti che si prendono in prestito ovviamente dal mondo dell'impresa che forse male non farebbero a una professione legale che vuole evolvere in senso anche imprenditoriale bene per questo lunedì è tutto, leggete tutte le nostre notizie e aggiornamenti di mercato su legalcommunity.it io vi do appuntamento alla settimana prossima, ciao